Super Terra, la nostra casa. Prosperità, libertà. Ehi là! Democrazia, il nostro stile di vita. Oh, salve! Ma la libertà non è gratis. No! Sottissima libertà! No! Ti sembra familiare? Scene come queste stanno accadendo in tutta la galassia, proprio ora. Tu potresti essere il prossimo. A meno che tu non prenda la decisione più importante della tua vita. Dimostra a te stesso che hai la forza e il coraggio di essere libero. Unisciti agli Hell Time. Diventa parte di una forza di pace d'elite! Scopri nuove forme di vita esotiche. E diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe. Diventa una leggenda. Diventa un Hell Diver.